Musica Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati ancora con il morecambe Con la serie delle 7 La 7 series La 7 series, che carino la 7 series Ovvero con i nostri gamberetti alla conquista del mondo Nell'episodio precedente ragazzoli abbiamo completato il mercato Abbiamo comprato dei giocatori nuovi Nell'episodio abbiamo comprato due esterni Ovvero abbiamo comprato il nostro Park Timin Che porterà il tè al parco E il nostro Biraja Come si chiama? Vabbè, Raja va bene per tutti Sistemiamo un attimino la formazione Perché tra l'altro vedete quando si dice il destino Il nostro esterno destro Braxton si è proprio rotto Quindi entra proprio Raj Che sa fare solo il destino destro Invece vediamo un attimino l'altro Raja che abbiamo detto quanto è Raja Un 63 invece Park E un 63 pure lui Sa fare il terzino sinistro Buono così, va bene dai Eppure è più forte del nostro terzino sinistro attuale Quindi fuori il custom facciamo risordire Park E poi, e poi Diagurara Io lo metterei a posto di Wilding E qua in attacco ci andiamo a mettere uno che sa fare l'attaccante Perché giocavamo con Dai, Stockholm Diamo fiducia a Stockholm Signori miei Sono tutti e due abbastanza brutti Tra l'altro Wilding è pure più forte Ma non è un attaccante Stockholm Diamo fiducia a Stockholm Allora, sistemiamo un attimino qui Allora, il portiere Rocher Bakker Boulou Breivit E Canyon Allora, no Così no Mi devi dare Il terzino sinistro Lo mettiamo a posto di Boulou Che però è più forte di Bacqueret Quindi Bacqueret esce fuori Dentro Boulou Breivit Breivit Lo mettiamo qui così Questa lo mettiamo qui E poi mi dai Al posto di Breivit Mi dai un attaccante E mi dai Chi è il nostro attaccante più forte? Lui Slow Sono messi un poco Perché è una partita di Coppa Raga Quindi non abbiamo sostituzioni limitate Quindi lasciamo stare così i giocatori Facciamo solamente Una rapida sistemazione E Perfetto Così Una rapida sistemazione delle formazioni Poi Le prossime partite di campionato Avremo più giocatori da sostituire Questa è una partita di Coppa In cui giochiamo con i titolari Signori miei Ma tanto Vediamo se riusciamo ad andare avanti Rese conto di Bensiri e squadra Primavera Non mi interessa L'avevo letto già l'altra volta Andiamo avanti Questa è la Leasing Trophy Giochiamo contro il Rotterdam Simuliamo questa raga Non ci interessa più di tanto Forse potevamo anche giocare con i panchinari Infatti Piccolo taglio veloce raga Ok ragazzoli Rapido taglio veloce Per cambiare I sostituti con i panchinari I titolari con i panchinari Abbiamo messo tutti i panchinari A parte qualcuno Per il via di infortuni O via di situazioni strane Simuliamo la partita Contro il Rotterdam Che ci interessa Relativamente Per la Leasing.com Trophy Non sprechiamo neanche il nostro grido di battaglia Giocherà Sistemiamo nuovamente la formazione Con tutti i titolari Con tutti i titolari Allora Leigh Smith E da quest'altra parte Mettiamo Stockholm Poi A posto di Sullivan Gioca L'altro esterno Destro Do sta Che è il nazionale Ma parca Va bene Allora giocherà Sullivan A centrocampo mettiamo in totale Che sono Diago Gurara E a posto di tutte Gioca Kayon Sì Perfetto A posto di Ellison Gioca Non mi dica Sta pure in nazionale Pure lui Dove sta il mio esterno sinistro Raga Sono confuso Dove sta il mio esterno sinistro Esterno sinistro E pure lui in nazionale Perfetto Quindi Ellison Il pelatone Si farà quest'altra partita A sinistra Se non sbaglio Park Ok Park per fortuna Non è in nazionale In difesa Tornano Sutton E Satton Old è pure in nazionale Ma parca Di una paletta Ambriaca Allora deve giocare Blue Raggi È in nazionale E il nostro esterno destro È rotto Quindi ci facciamo Giocare Su quella fascia Craston Praticamente E Rocher Fuori Per il Gnobu Va bene Ora la cosa graziosa Io ce li ho Abbastanza giocatori Da poter Sostituire questi Sì Penso di sì Allora Wilding Ok E a posto di raggi Mettiamo Brewitt C'ho tutti quanti Quasi Beh C'ho dei giocatori In nazionali Praticamente Ottimo Almeno Quanto meno Possiamo dire Che abbiamo dei giocatori Buoni Forse Non è detto Che è successo Giocatori non disponibili Chi è Braxton Perché non me l'ha fatto vedere subito Braxton Cioè Riusciamo a giocare Per fortuna Raga Questa partita La riusciamo a giocare Per fortuna Abbiamo i giocatori Contati Assurdo Assurdo Va bene L'importante è che riusciamo a scendere in campo Ma andiamo contro lo Stalfold Signori miei Stalfold Grido di battaglia Astag Forza Gamberetti Forza Gamberetti Forza Gamberetti Dai così Dai 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 Abbiamo verso 2 a 1 Che palpebre Che palpebre Signori miei Moregambe 1 Stalfold 2 L'avevamo pareggiata con Sullivan E invece loro ci hanno fatto Il fondo schiena Tutto colorato Prima sconfitta No Forse è già la seconda sconfitta Non ricordo quante sconfitte Però ragomera abbiamo avuto in campionato Wilson Sala 57 Buono Anche Raid Sala 54 Buono I nostri giovani stanno crescendo Va bene così Andiamo avanti Di solito non mi piace Che cosa sta dicendo Wilding Di solito non mi piace Avantarmi Ma credo che avrei potuto fare la differenza Contro lo squadro Wilding Non era l'avversario giusto Wilding mio Wilding mio Non era l'avversario giusto Andiamo avanti signori Siamo attualmente 12esimi in campionato Con 10 punti Ci difendiamo bene Raga Offerta ritirata Offerta per il prestito di tutte Ma vai a quel paese A gennaio poi si vede la raga Per ora ce lo teniamo tutte Allora Il prossimo incontro è fondamentale Old Eri nazionale Cosa vuoi da me? È logico che ti faccio giocare Allora Ok 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 Al posto di Sullivan Dovrebbe essere tornato Delev Al posto di Ellison Gioca Tonev Al posto di Cruston Gioca Raja E al posto di Mbulu Gioca Old Perfetto Chi è che si lamentava Che voleva giocare Era 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 Wilding Che è un 63 Effettivamente Wilding È più forte di Canyon Quindi gioca Wilding Sistemiamo la panchina Raga Velocemente 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 Dobbiamo sistemare Un attimo la panchina Allora Ci portiamo un Bulu Ci portiamo un esterno Cruston Esterno sinistro Al posto di tutte Vieni qua Ok Lo mettiamo qui Poi abbiamo Così Così Bacaré È inguardabile Quindi cortesemente Bacaré Lo mandiamo fuori E lo portiamo Sullivan Direi che ci siamo Abbiamo i due attaccanti Abbiamo i difensori Centro campista Esterno destra Va bene Va bene così Ci siamo Ok Formazione sistemata Raga I nostri titolari Sono loro Speriamo che riscano a fare Un buon Campionato Raga Speriamo che riscano a fare Un buon campionato Andiamo a parlare con Old Così ce lo leviamo Dalle scatole Si lamentano molto Questi giocatori Sono lamentosi Lamentosi Andiamo a giocare Andiamo a stimolare Contro lo Scontroop Lo Scontroop Attenzione Scontroop Fuori casa Grido di battaglia Forza Camberetti Forza Camberetti Forza Camberetti Dai così 2-0 Bella così Raga Bella così Tonevedia Cucurera Sono usciti Stoltcom LH Per Slough E Howard Buono così Buono così Zitto zitto Il nostro Il nostro gamberetto Il nostro I nostri gamberetti Vanno avanti Bella così Bella così Craston Che ma si lamentano tutti Ma sai Ma è una squadra Di lamentosi Però dai Mamma mia Cosa vuole Hai giocato L'altra partita Ma se stanno A lamentare tutti Volevo dirle Che sono un po' Preoccupato Le chiedo Un'altra possibilità Per di non stare Ci penserò Alla zio Eh dai Però Ti stai a lamentare Troppo Mamma mia Mamma mia Che piagnucoloni Che so qua Ai gamberetti Prozze partite È uno del walls E sotto di noi Ce l'andiamo a giocare Lo stesso Raga Non siamo al massimo Di forma Ma ce l'andiamo a giocare Lo stesso Dove che chiudiamo Il video Attenzione Ma ora i cambia Contro walls Gamberetti Contro uccelli Astag Forza gamberetti Forza gamberetti Forza gamberetti Dai così Silenzio Tattico E la vittoria Raga No Si è rotto wielding Si è rotto wielding Raga Però abbiamo vinto 2 a 1 2 a 1 Delev e late Bella così Bella così Bella così Andiamo Andiamo Questi gamberetti Mi stanno sorprendendo Signor di miei Giocatore infortunato Cosa è successo Due mesi Grande wielding Grande Ottimo Ottimo Allora Arriviamo alla partita Con i gufi Con l'oldam Athletic Abbiamo anche L'aggiornamento Dell'osservatore Andiamo a vedere Un attimino Cosa ci ha portato L'osservatore Dall'Inghilterra Abbiamo Elliot Harris 5270 Se ne puoi tornare Da dove sei arrivato Marcus Bellay 4967 Anche tu Puoi tornare Da dove sei venuto Bello Bello Complimenti Ottimo lavoro Al nostro osservatore Va bene ragazzoli Detto questo Io vi ringrazio Per guardare questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Che darete a questa serie Noi ci vediamo Sempre qui domani Con un prossimo contenuto Bella raga Ciao